musica 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 3, 2, 1, go buongiorno ragazzi ragazzi esatto allora abbiamo dobbato nella nostra cameretta abbiamo levato l'adob diciamo scuola vabbè babbo natali ci sarà c'è babbo natale allora raga oggi apriremo i calendari del avvento e ci troviamo nella nostra cameretta nonostante noi abbiamo fatto l'albero in natale buuu buuu abbiamo fatto l'albero in natale però oggi ci andava di passare il video con questi magnifici cartelloni c τις filterati allora ragazzi siamo al 10 dicembre il tempo possa volare e a breve finiremo la scuola io piango perché sono troppo pesche e poi a breve sarà Natale e la Vigilia e a breve finiremo di aprire questo calendario che da una parte ci dispiace e dall'altra siamo felicissime perché significa che arriva la Vigilia allora ragazzi noi abbiamo trapparvi un sorriso e farvi passare un bellissimo Natale e Vigilia e tutto Dicembre perché Dicembre è il mese più bello secondo me dell'anno proprio perché è a tema Natale vedi tutte le luci per strada però sappiamo che molti di voi non molti però alcuni ci scrivono e dicono che comunque non la passeranno alla grande perché per motivi personali appunto noi cerchiamo di trapparvi lo stesso un sorriso perché ci teniamo essendo che Dicembre è un mese bello è carino e fa rendere le persone felice non siamo dei Grinch non so i Grinch non so che mi ha visto il film ma beh questi sono dettagli però voglio ah già scusami in pratica voglio dire una cosa che per chi non l'avesse mai ma ma MAI notato il calendario arriva sempre il 24 non arriva il 25 il 25 è Natale quindi vabbè comunque noi passiamo avanti e iniziamo a aprire allora Giulia apri prima uno dei due perché tu oggi è 10 quindi aprirai ecco qui il 10 e eccolo qui oh aia oh oh aia tipo il ca aia che bello No vai via Allora è un nine non so se si vede E' una lenda carinissima Ovviamente di cioccolato Però io amo le lenda Ora avremo questo Devo dire la verità raga Non escono sorprese chissà quanto carine Cioè cioccolatini Però mi sono affezionata a questo calendario Allora io voglio dire una cosa Questo come lo vorresti chiamare? Questo tavolo Ah raga Non fate caso ma se Poi scoprirete Però dobbiamo chiamarlo Vabbè vabbè Allora dicevamo apriamo il numero 10 Vabbè Dobbiamo levare Ok E' un cioccolatino semplicissimo Azzurro quindi passiamo Avanti ora iniziamo Ora tocca quello dell'aribo Che io amo l'aribo E la bontà Che si cuccia da ogni età Buone buone palline Buone buone palline Questa è un buonissima raga Guarda io Ehi 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 Perché così esce veramente Qui dentro c'è scritto questo un buonissima Non è vero Questa è una venta Una pallina Allora Qual è stata la vostra casella preferita Di tutti Cioè il 10 Qual è stata Cioè tipo Mi piace più quello dell'aribo Più quello della milka O più quello della kinder A me Quello dell'aribo Raga scriveteci Allora Giù nei commenti No purtroppo Youtube ci ha bloccato Ci ha disabilitato i commenti Perché lo sa lui Perché? Non te lo mangi Lo sa lui il perché Però potete scriverci Nei direct di Instagram E sul Nei direct di Instagram E sotto i post che carichiamo Come passerete il Natale E anche su TikTok Potete scrivere Ma anche su Twitch Ci faccio un qualche piacchiera Mentre giochiamo Mentre giochiamo Perché siamo molto curiosi E vogliamo sapere Come passerete questa vigile E questo Natale Sì Grazie Ciao buonissima 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 Sì Allora A me è stato il mio preferito Quello dell'aribo Da questo Mi aspettavo di peggio Mi aspettavo tipo uno di questi Buoni Quanti cazzo più? Non viaggiano Cioè penso che questi Quanti hanno lo stesso gusto di quello Dai regalo Grazie Allora ripetiamo Qual è stato il vostro Calendario preferito Che abbiamo aperto oggi? Raga io devo dire la verità Ormai che sono affezionata a lui Quindi dico sempre Mi piace È troppo carino È dolce Caruccio Ora mi hanno un po' di cioccolato Ora mi hanno un po' di cioccolata Perché sì Perché voglio aprire la cioccolata Allora Allora Ma che ti stai mangiando? Però ovviamente Però ovviamente li faremo da tutte e due le parti Quello che viene più votato Magari nelle info con il sondaggio Faremo più video lì Però comunque li faremo da tutte e due le parti Sì più video qui Oppure più video lì Ok Ok raga allora Io siamo al 10 di dicembre Non ho ancora fatto regali di Natale Vabbè dai è presto Giulia Ma non so cosa regalargli Regalarle È bianca e nero No Vi dovete vedere la mia macchia Mi si sta sciogliendo il cioccolato Ma vogliamo parlarne? È stupenda Metà Assi due mozze No La barretta Faccio un altro E basta Oh una sta basta Eh ma non ci ho andato tutta la barretta Ti ho andato Stavo qua No uno e due Ora non altro Tieni Ok L'abbiamo mangiato tutta oggi Quindi questo era il video Spero vi vi è piaciuto Ah non vi è piaciuto Stantissimo Iscrivetevi A Instagram Marghe Giulia E tutti i contatti Marghe Giulia E tutti i contatti Marghe Giulia Secondo canale E se volete le mail Le coppie le date Al prossimo E tantissime Anticolo Le passate www.marghiglia E niente Se vi è piaciuto Lasciate like Cominciate Iscrivete Al canale Condividete Al prodotto Se vi è piaciuto Shhh Musica 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 Musica